Sette presenze e meno di 200 minuti totali in due. Domagoj Bradaric e Junior Sambian hanno avuto un impatto marginale sulla prima parte di stagione della Salernitana. Difficoltà fisiche ed anche tattiche sono alla base dello scarso minutaggio dei due calciatori che il DS De Santis ha prelevato dal campionato francese. Bradaric ha vinto anche un titolo in Ligue 1 con il Lille con cui nell'ultima stagione aveva trovato meno spazio. Solo due presenze da isolare contro le 14 della stagione precedente, quella del titolo. Sambia ha giocato 16 volte dal primo minuto subentrando in 14 occasioni nell'ultima stagione al Montpellier. Bradaric è stato pagato 4 milioni e mezzo mentre Sambia è arrivato a parametro zero per entrambi i contratti quadriennali, segno che la società Granata ha puntato forte su di loro. Bradaric è esordito in serie in occasione della trasferta di Udine, schierato dal primo minuto del secondo tempo per sfruttare la superiorità numerica e consentire a Mazzocchi tornare sulla corsia destra. Il croato non lasciò il segno. Titolare a Bologna, l'ex Lille fu sostituito dopo 54 minuti. Dopo aver giocato 8 minuti contro l'Empoli, Bradaric ha giocato tutto il secondo tempo della gara con il Lecce. È un giocatore di grande spinta e dà la buona precisione del cross, per questo Nicola lo ha accolto con grande entusiasmo. Ma probabilmente deve colmare un gap fisico che non è dovuto solo allo stop muscolare ripatito a luglio. Il calciatore croato appare un po' troppo leggero ed ha bisogno di mettere anche un po' di chili per reggere l'urso della Serie A. Dopo la sosta si spera di vedere in campo un Bradaric più convinto e sicuro ed anche più tonico. Sambia ha collezionato tre presenze contro Roma, Samp e Juve per un totale di una quarantina di minuti ed è quasi ingiudicabile. In Francia si era segnalato per fisicità, adottità tattica e buona personalità. Qualche inconveniente fisico ed abbondanza di esterni, visto che Mazzocchi è rimasto dopo che a luglio sembrava in uscita e successivamente è stato ingaggiato Candreva, lo hanno per ora relegato ad un ruolo di comparsa. Se ci dovesse essere qualche variazione tattica, magari un cambio di modulo, sia a Bradaric sia a Sambia potrebbero trovare più spazio. Di certo da loro Nicola si attende di più anche perché è fondamentale l'apporto di chi subentra, visto che Mazzocchi e Candreva non possono sempre andare al massimo. E non può reggere ritmi infernali nemmeno Lassana Koulibaly, letteralmente strabordante in alcuni momenti, ma vittima alla lunga di un calo e di un fisiologico appannamento. Il Maliano deve essere sempre al top per fare la differenza. È il suo modo di stare in campo che richiede questo perché una volta abbassati i giri del motore, Lassana diventa un calciatore meno determinante per la Sardinitana. Il problema finora è stato che, assente Boine, nel partito Mamadou in panchina, Nicola aveva Cassanos, che è incontrista, non è, e Capezzi. Rimasto in lista, moro ai margini del progetto. A gennaio, dunque, dovranno arrivare rinforzi in mediana. De Santis aveva puntato il belga Raskin dello Stan La Liege, oltre a Bove della Roma. Il DS è segnato in giro per l'Europa e potrebbe pescare qualche talento in Scandinavia, visto che uno dei giocatori più apprezzati in mediana è il dianese Hulman, classe 99, prossima plus valenza del mago Corvino. Giovani, forti fisicamente e pronti mentalmente, li vuole così la Sardinitana sia per gettare le basi per un ciclo importante, sia per potersi autofinanziare. Due esterni presenti in rosa da rilanciare, almeno un centrocampista di coste e sostanze da riperire sul mercato, senza dimenticare un portiere under. Gennaio è lontano, ma non troppo.